Anche oggi per migliaia di persone in provincia di Avellino è stata una giornata di ordinaria odissea, l'ennesima rottura di una condotta adduttrice, ha spento i rubinetti in 15 comuni a partire dal primo pomeriggio in serata per le sospensioni notturne, si aggiungeranno altri comuni che vedranno tornare l'acqua nei rubinetti soltanto domani mattina, se va bene, Alto Calore sta predisponendo il progetto per intervenire sulle reti e combattere la dispersione da presentare nei prossimi giorni al commissario straordinario per l'emergenza idrica e da qui quel progetto essere portato sul tavolo di Palazzo Chigi per essere finanziato. Ora questa notizia appassiona e incoraggia poco e punto quelli che ogni giorno escono di casa lavandosi alla mempeggio e rientrano a casa senza potersi lavare, i titolari di ristoranti, di pizzerie, di locali pubblici, di bar, di lavanderie, chi più ne ha ne metta, non ne possono più, la gradualizzazione degli interventi è resa necessaria dal fatto che mettere riparo alla gran parte di reti betuste e condotte fradice, le ripari e quelle esplodono di nuovo, costa troppo e le risorse non ci sono, anche questa probabilmente giusta considerazione da una parte entra e dall'altra esce e non per spirito necessariamente protestatario, stiamo parlando di un diritto fondamentale e inalienabile, una consapevolezza questa che cresce in maniera inversamente proporzionale tra i cittadini e chi quei diritti deve garantire.